Con l'anno nuovo i contribuenti che ricevono fatture in reverse charge piuttosto che intra sono obbligati ad emettere una nuova fattura con codice fatturazione TD16 da trasmettere al sistema di interscambio all'agenzia delle entrate. Questo perché con tale invio il contribuente potrà registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite come si faceva in precedenza. Lo studio rimane ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla nuova procedura e agli adempimenti della stessa.